Atene, siamo tutti i blackrock, così non è inzantiene, dovrà, che fare, se arrivano i volti, a tramandiera le notti. Come dice uno slogan, forse il più bello del movimento Notav, si parte e si torna insieme, dai forza Notav! Scrivono la nottoria, Notav, viva la vittoria! E allora invitiamo tutti e tutti i partecipanti al festival a unirsi alla marcia che raggiungerà il cantiere di Chiomonte, questo mostro ormai vuoto da mesi. Ave, 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 ave Grazie per la visione!